Un bilancio di questi primi passi della riforma qui a San Daniele? Intanto una struttura sana, c'è stato un confronto, devo dire franco, e anche estremamente utile con gli operatori, la direzione, stiamo lavorando per l'attuazione concreta della riforma, qui abbiamo da una parte un patrimonio importante che intendiamo valorizzare, salvaguardare e anche mettere a disposizione di un'area più vasta, dall'altra siamo consapevoli che come sempre tutte le riforme hanno anche la necessità di avere dei tempi e anche ovviamente la complessità di mettersi a lavorare su un'area più vasta in un'azienda dove oltre evidentemente al mettere insieme degli ospedali come Tolmezzo, San Daniele, abbiamo anche la necessità di agire sul presidio ospedaliero di Gemona e ovviamente anche creare l'integrazione necessaria in tutta l'area.